A Lid le piante e il terriccio universale hanno prezzi imbattibili. Guarda l'Anturium andreanum 8 euro, onestamente un buon prezzo. Come il terriccio, ma confezioni veramente grandi da 45 litri, ha 3 euro e 29. C'è di due tipi, quello di versale per pianti e fiori e quello per piante da balconi che costa invece 4 euro. Lo stesso a 3,49 euro, queste piante grasse, oppure addirittura 1,69 euro, secondo me ti conviene comprarle. Poi ci sono vari altri terricci per rose eccetera, un po' di tutti i tipi. Ecco, gli alberi da frutto a 3,49 euro, sì il prezzo è indubbiamente molto basso, però sono molto molto piccoli. Prima di mangiare la frutta dovrei aspettare una ventina d'arri. Le rose a 6 euro, beh sono rose ad alberello e il prezzo indubbiamente è buono. Poi abbiamo gerani molto piccoli, abbiamo delle hortense, con hortense a 7 euro, onestamente si può prendere tranquillamente. Varie altre piante, ecco. L'orchidea Phalaenopsis a 2 steli 10 euro, tra pochi giorni ne costerà 7, quindi ti consiglio di aspettare, però una bellissima orchidea indubbiamente. Ovviamente terriccio anche da corteccia per paccianatura, questa se vuoi allevare le orchidee ti serve, perché dovrai mischiare il terriccio universale con questa, sempre che sia di pino, ma penso di sì. Se no, dovrai usare del polistirene o dell'argilla espansa. Se no, dovrai usare del polistireno spettare. Grazie.